Salve! Carissimi visitatori e banchetari! Il bello del Ciber Paruk non è solo literatura, foto, film e musica, ma una filosofia artistica e stupefacente sulle assurdità della nostra esistenza siderale e autodistruttiva, che ai margini dell'impossibile ci dà non solo la sensazione allucinante, ma anche nuove percezioni oltre l'immaginabile. Godetevi le storie di fantasmagoria senza pietà in un autoprocesso alla vostra coscienza, per crescere un attimo solo e senza fronti e extra... So, do you like it when I do this? Oh, that's kinda freaky... Non vuoi andare, cari terra, terra, terra... Non vuoi andare, cari terra, terra, terra... Non vuoi andare, cari terra... Atopia, un'altra strada Atopia, la luce si è persa Più profondo Più profondo Più profondo Più profondo Più profondo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.